eccoci qui signore e signori per mega satan non c'è male, non c'è male e c'è the void no, è usato andiamo a fare the void ho usato tutto non pensavo mi uscisse the void dopo un'ora e dieci di gioco non c'è male ok e ci faremo anche delirium range down, bella ok ok ok, 99 bombs oba ok 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 buono no ok 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 solo e trovo le boss fight ho preso vabbè c'è due due drusi non vedo dove metto le bomba sono minuscolo un altro sacchettino inutile oh il bagger 5 a fortuna dovrebbe darmi qualcosina di carino chiavi chiavi ho fatto a scorto di sacchetti scorto di sacchetti ho 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 e e mi serve giù sombrosi perdere delirium! I'm excited! Oh, eccolo! E' tosto, ma... Nonostante solo, tra virgolette, il nostro 14 di danno. Con tutti gli accessori che abbiamo sta venendo giù. Isaac! E anche delirium è fatto. E ci siamo fatti Mega Satan e delirium. Doppio qualcosa. E' così finito. E abbiamo sbloccato la lametta. E' così finito. E' così finito.